ah io so puttana eh tu sei il puttano che fai con tutte le femmine ma che dici se tu ci andavi pure quando non mi facevo pagare io vero o no traditore patente e che dovevo fare secondo te mi dovevo tenere le corne zitta ti dovevo prendere a coltellate si lo so lo so che dopo tu ti metti a piangere prima mi fai le corne e poi ti metti a piangere non sai resistere mi sembri un malato per questo ancora non ti ho lasciato generi e allora ho aspettato finirà mi sono detta troverà un lavoro si ucciderà di faticata la mattina alla sera come me e si calverà e invece non ti sei calmato il lavoro non l'hai trovato anzi dal lavoro non ti sei fatto trovare tu piuttosto che andare a lavorare tu saresti andata a rubare perché tu generi di faticata non tieni genio tieni genio solo i chi ha va e ho miseria aumentata perché aumentavano i figli e gli aumentavano i corne e io zitta zitta e allora mi sono fatta venire un'idea mi sono messa a pensare e se invece di considerarlo una malattia la consideriamo che so un'abilità come se uno invece sapesse suonare bene il violino che fa? glielo impedisce? e no, no signore un peccato un artista quello è bravo quello se non suona il violino appassisce muore e facciamolo suonare facciamolo fare il concertista e chi lo vuole sentire è giusto che deve pagare il biglietto vuoi vedere? mi sono detta che questa maledizione diventa una benedizione e ci leva da sta miseria nera e ci fa cambare un po' più da cristiani e allora le ho prese per il petto a quelle gentildonne se vi volete fare Gennarino dovete pagare dovete pagare a me perché Gennarino è roba mia voi pagate e io mi sto zitta uè ci fosse stata una una che avesse detto di no hanno pagato hanno pagato tutte quante tutte, capito? tutte